Città metropolitana difende la scelta del depuratore comprensoriale incolmata ma apre la strada la costruzione di due impianti, uno per Sestri e uno per Chiavari e Lavagna, servono però tempi rapidissimi. Tre progetti a Casarza Ligure per la sicurezza idrogeologica, tecnici a lavoro su frazioni, fiumi e riqualificazione di Piazza della Vittoria. Balneari, una legge che premi la qualità nella gestione, lo chiede legambiente al governo invitato a formulare un nuovo provvedimento. Sant'Innocenzo richiama la fedeltà alle promesse del battesimo, il vescovo ha celebrato la festa insieme ai parrocchiani di San Martino di Noceto. A Stefano Bruzzone, medico e seminarista, prossimo all'ordinazione presbiterale, è stato assegnato il premio bontà Madre Speranza Rapallo. L'estate, giovani dei ragazzi di Rupinaro a Montemoggio, momenti di svago, gioco e riflessione nella rubrica in onda questa sera su Telepacce 1. Note necessarie, 50 anni di storia del Gets attraverso la vita di Enrico Rava, a Chiavari il prologo della rassegna Gets On Air. Buonasera a tutti e ben ritrovati a Tiguglio Oggi. Dunque c'è una parziale apertura da parte della città metropolitana riguardo alla vicenda del depuratore per la zona del Tiguglio centrale ed orientale. Il consigliere incaricato all'ambiente Enrico Pignone ha scritto al sindaco di Chiavari Roberto Levaggi invitandolo a proporre in tempi molto rapidi una soluzione alternativa all'impianto comprensoriale incolmata per un depuratore che serva dunque Chiavari, Lavagna e il loro entroterra. Si farebbe strada in questo modo la possibilità di costruire due impianti distinti ma cerchiamo di capire di più nel primo servizio di questa sera. La città metropolitana di Genova difende la scelta di collocare un impianto per la depurazione delle acque di portata comprensoriale a Chiavari incolmata ma apre ad eventuali alternative. Chiavari proponga una soluzione ma la svelta. È in sintesi il messaggio contenuto nella lettera inviata oggi al sindaco Roberto Levaggi dal consigliere incaricato all'ambiente Enrico Pignone. Nel documento che definisce pregiudiziale l'opposizione del comune di Chiavari alla scelta individuata, Pignone mette in luce come proprio Chiavari non abbia proposto alternative concrete al progetto approvato dal consiglio metropolitano e per il quale, lo ricordiamo, proceda tutt'oggi la progettazione. Progettazione che prevede la costruzione di un impianto per il bacino dell'Entella, Chiavari, Lavagna e comuni del loro entroterra e di parte della Val Fontana Buona e la zona di Sestri Levante e della Val Petronio. Per Pignone i vantaggi sono molteplici, superamento delle procedure di infrazione per Lavagna, Sestri Levante e Riva Trigoso, valorizzazione dell'area Preli, garanzie per Chiavari che fra cinque anni avrebbe comunque un impianto obsoleto. Sestri Levante però evidenzia la lettera ha messo a disposizione l'area di Ramaia per l'impianto che dovrebbe servire la Val Petronio. Quindi, conclude il documento, la soluzione del doppio depuratore, benché decisamente più onerosa per la comunità, si può perseguire, ma solo se un'alternativa valida viene presentata in tempi rapidissimi. L'assenza di tale soluzione, afferma Pignone, rafforza la convinzione della bontà della scelta fatta a suo tempo, ovvero quella di un impianto unico incolmata mare a Chiavari. Abbiamo in collegamento telefonico il sindaco di Chiavari, Roberto Levaggi. È stato chiamato in causa. Sindaco, buonasera. Buonasera, buonasera ai telespettatori. Dunque, la richiesta è questa. C'è una soluzione alternativa? Guardi, prima di tutto mi fa piacere che Pignone, dopo sei, sette mesi, che io chiedo che il sindaco Dori e lui stesso convochi in una riunione dei sindaci dell'Entella, solo dell'Entella, per prendere una decisione comune, finalmente arrivi questa lettera e che parli dell'ipotesi di due depuratori, uno di Valata. Vuol dire che una breccia con le nostre battaglie l'abbiamo aperta. Seconda cosa, non può chiedere al sindaco di Chiavari di individuare un sito in altri comuni, perché noi non siamo in infrazione comunitaria e io non ho la possibilità di legge e proprio l'opinione. Dovrebbe sapere che il sindaco di Chiavari non può individuare soluzioni, deve essere lato, devono essere quelli che gli strumenti e le legislazioni che ci sono attualmente. Poi l'indicazione comuni può individuare anche nel proprio territorio, non è un individuatore, già ce l'abbiamo e quindi non è che vado a trovare siti in altre parti di altri comuni. Però l'invito lo raccogliamo volentieri, io già più volte vi ho chiesto un incontro, chiederei nei primi di settembre, perché adesso non va a essere scelto per agosto, che il sindaco Doria si faccia carico di inviare una riunione tra i comuni del bacino della Entella. E' quello che volevamo già fare, quando poi è successo il fatto di lavagna, non abbiamo proseguito con tutti i comuni di Chiaveri, Corno, Levi e me, e Carasco per farsi di trovare una soluzione comune alternativa. E' logico che Sessi individui un proprio sito, perché Sessi è un'infrazione, non ha un depuratore ed è giusto che individui un proprio sito, ma Chiaveri che il depuratore ce l'ha non capiamo dove possa individuarlo in altri comuni, non posso per motivi, ovviamente come dice la gente. Però a questi incontri ci andremo ben volentieri, c'è il sindaco di Levi che ha individuato un sito per quello comprensoriale unico, a maggior ragione ci potrebbe stare quello solo del bacino della Entella e quindi possiamo ragionare su queste ipotesi. Allora per ora grazie sindaco per questa precisazione, poi ci torneremo ovviamente in maniera più diffusa nel corso dei telegiornali di domani. Buona serata e buon lavoro. Grazie, buona serata. Da Chiaveri andiamo a Casarza Ligure, estate di progettazione a Casarza per la messa in sicurezza idrogeologica del territorio comunale. L'amministrazione è al lavoro per partecipare ai bandi per l'assegnazione di fondi che, se concessi, sarebbero fondamentali per tre grandi progetti. Mesi estivi di progettazione per la sicurezza idrogeologica a Casarza Ligure, tra gli obiettivi che l'amministrazione Stagnaro intende perseguire con la partecipazione a bandi europei e regionali. Il primo progetto, accedendo ai finanziamenti del piano di sviluppo rurale, riguarda due frazioni. Il primo riguarderà la frazione di Bargone, precisamente la località di Nansola, dove vogliamo intervenire per la sistemazione di un movimento franoso, ma contemporaneamente realizzare anche un parcheggio che abbia una idea a questo borgo, uno sviluppo anche dal punto di vista turistico ricettivo. Un altro importante intervento lo vogliamo realizzare nella frazione di Cardini, dove c'è, per intenderci, il circolo Acli. C'è uno stradino storico di collegamento che porta direttamente alla frazione, che è in stato di degrado. Vogliamo intervenire per la sistemazione di quello e per la regimazione delle acque di tutta l'intera zona. Secondo fronte è la messa in sicurezza del rio Cacarello, che attraversa il centro di Casarza Ligure. In questo caso si cercherà di accedere al PORFESR, il programma operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Si tratta di un progetto corposo e importante dal punto di vista economico. Vi è una alta percentuale di cittadini che sono a rischio, nel caso purtroppo questo rio dovesse esondare, e quindi vogliamo intervenire finalmente con un progetto e poi chiedere i finanziamenti. Si parla di tanti soldi, all'incirca 4-5 milioni di euro, però questo veramente è una priorità che mi voglio prendere e in questi 5 anni spero di riuscire, oltre ad avere il progetto pronto, anche ad avere almeno qualche lotto finanziato. Infine, la Giunta Stagnaro intende attraverso il GAL, il gruppo di azione locale, mettere in sicurezza la sentieristica comunale e sempre ai fini turistici riqualificare Piazza della Vittoria. Con la pedonalizzazione della parte vicina alla scalinata della chiesa, riqualificheremo la piazza dove oggi c'è una fontana che dovrà essere sostituita e messa a posto tutta la piazza con una nuova dislocazione dei parcheggi e anche una maggiore sicurezza. Il Consiglio dei Ministri ha nominato il Vice Prefetto Vicario della Prefettura di Genova, Paolo Dattilio, destinato a svolgere le funzioni di Direttore Centrale dei Servizi Demografici presso il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno. Paolo Dattilio, entrato nella carriera prefettizia nel 1985, ha prestato servizio dapprima presso la Prefettura di Savona e poi a Livorno, dove ha svolto le funzioni di Capo di Gabinetto e successivamente quelle di Vicario. È stato assegnato nel 2010 alla Prefettura di Genova con le funzioni di Vice Prefetto Vicario. È Presidente della sezione di Genova della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino. Ha svolto numerosi incarichi esterni, tra cui quello di componente della Commissione Straordinaria per la Gestione del Comune di Bordighera a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni di stampo mafioso e di membro della Commissione d'Accesso del Comune di Diano Marina. Al momento è commissario straordinario del Comune di Lavagna. Parliamo ora di balneari. Le gare per l'assegnazione delle concessioni dovrebbero premiare le imprese familiari. A dirlo, lega ambiente, che chiede al Governo una legge che tuteli coloro che accedono alla spiaggia, ma anche gli imprenditori. Da una parte si chiede di riconoscere ai balneari il valore d'impresa, dall'altra però di rivedere canoni e accessi al litorale. Sentiamo. Subito una legge sulle concessioni demaniali per garantire il diritto a spiagge accessibili e libere dal cemento, consentendo agli imprenditori onesti di lavorare in un quadro di certezze. A chiederla è Goletta Verde, la storica campagna di lega ambiente che in questi giorni sta completando il suo viaggio lungo le coste italiane. Le proposte sono cinque. Primo, fissare una quota minima di spiagge libere pari al 60%. In molte regioni non sono in vigore leggi che regolano i limiti, mentre in Francia, per fare un esempio, si arriva all'80%. Per lega ambiente occorre rivedere spazi e dimensioni contenuti nelle convenzioni o nelle gare per le assegnazioni. Secondo aspetto, bisogna premiare la qualità della gestione come criterio di aggiudicazione della gara, come chiedono anche i balneari. La legge dovrebbe dunque contenere criteri e obiettivi precisi, in modo da premiare i progetti che puntano sulla sostenibilità nella gestione, aiutando così le tante imprese, molto spesso familiari, già titolari di concessioni balneari. Il documento dovrebbe inoltre riconoscere agli stabilimenti il valore di azienda, e anche questa è una richiesta fatta a più riprese dalle associazioni dei balneari. Terzo punto, i canoni però devono essere adeguati. In alcune realtà italiane, denuncia lega ambiente, si verificano situazioni insopportabili, con imposte anche molto basse rispetto all'effettivo guadagno delle imprese. La legge dovrebbe contenere un canone minimo nazionale, con la possibilità per le regioni di introdurre premialità o penalità. La quota maggiore del canone, chiede ancora l'associazione, dovrebbe andare ai comuni con un vincolo di destinazione per interventi migliorativi e di valorizzazione ambientale dell'area costiera. Infine, si chiede l'attivazione di un portale nazionale delle concessioni e il diritto dei cittadini a poter usufruire delle spiagge, mentre spesso accade che gli stabilimenti impediscano l'accesso gratuito al litorale. L'epilogo è stato rocambolesco, le conseguenze fortunatamente non gravi. L'incidente è avvenuto questa mattina attorno alle 2 in via 5 maggio a Sturla, non ha provocato feriti, ma le vetture coinvolte hanno riportato seri danni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento est di Genova. Un veicolo fuori strada ha perso il controllo finendo sul cofano di un'auto di passaggio. Gli occupanti hanno lasciato autonomamente gli abitacoli. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'aria e con l'ausilio di cuscini ad aria compressa hanno sollevato la jeep per poter disincastrare la vettura su cui era salita, da definire la dinamica dell'incidente. Il capogruppo di partecipativa, Giorgio Canepa, esprime perplessità sulla modalità adottata dal comune di Chiavari per pedonalizzare piazza Matteotti. È stato creato un corridoio pedonale tra via Vittorio Veneto e via Martiri della Liberazione, rileva Canepa. In cambio sono comparsi un numero enorme di posteggi blu, anche in zone dove prima erano bianchi oppure erano stati tolti. Questa modifica, secondo il consigliere di minoranza, contribuirebbe a rendere la piazza, per gran parte della giornata ancora più automobilizzata e caotica. Il Consiglio Comunale di Santa Margherita Ligure si riunirà il 18 agosto, ovvero giovedì prossimo, a partire dalle 19. All'ordine del giorno, nove mozioni e una interpellanza presentate dai gruppi consigliari Insieme Santa Nel Cuore, La Voce della Città e Progetto per Santa Pastine, che avranno ad oggetto la situazione degli impianti sportivi cittadini, il regolamento del piano di risanamento acustico, la polizia lucale, il posizionamento del palco di Piazza Caprera e ancora i cimiteri cittadini, la situazione dell'area brissolese, via 25 Aprile, la mobilità cittadina, il decoro urbano e il monumento a Giuseppe Garibaldi. Sant'Innocenzo, come San Lorenzo, è uno dei sette diaconi martiri. Il santo è venerato nella piccola comunità di San Martino di Noceto, a Rapallo. La parrocchia in questi mesi si è rivitalizzata insieme a Don Davide Sacco, giovane sacerdote che ne ha la guida. In occasione della festa di Sant'Innocenzo, la messa del mattino è stata presieduta dal Vescovo. La parrocchia di San Martino di Noceto appartiene a quella schiera di piccole comunità collinari che fanno da corona la popolosa Rapallo. Benché non molto numerosi, i fedeli della parrocchia portano avanti le tradizioni con fedeltà e devozione, quest'anno rinvigoriti dall'arrivo del nuovo pastore. È una comunità viva, lo era anche prima, però da quando c'è Don Davide è rinata. Siamo rinati tutti perché abbiamo avuto tante belle cose da lui. La festa principale è quella in onore a Sant'Innocenzo, uno dei sette diaconi martiri insieme a Papa Sisto II. Il santo, ha sottolineato il Vescovo durante la celebrazione dell'Eucaristia nel giorno della festa, ci richiama la fedeltà alle promesse fatte nel battesimo. Noi guardiamo in questo santo la fedeltà, fino in fondo, senza riserve. E questo ci interroga sulla nostra vita cristiana. Quanto, quale importanza ha la fedeltà alla nostro essere cristiana. Particolarmente colpito e commosso Don Davide Sacco, che da qualche tempo amministra la comunità di Noceto. Dal giovane sacerdote parole di elogio, in particolare per la cantoria da poco ricomposta. Dopo tanti mesi che con gioia sono arrivati a questo giorno. Tante fatiche, tanti sforzi, però è bello che c'è una comunità viva, che è rinata, che è nata, e quindi questo a me mi commuove. I giovani non sono tantissimi, chi lavora fuori, chi si sposa e va a vivere altrove, eccetera. Però il gruppetto che è rimasto e che fa parte del comitato festeggiamenti è veramente molto molto unito. La cosa bella del nostro gruppo è che con tutte le difficoltà, nonostante siamo pochi, siamo veramente una grande famiglia. E in un clima di famiglia non poteva passare inosservato il compleanno di Monsignor Alberto Tanasini, con una piccola ma gradita sorpresa. Nell'ambito della diciassettesima edizione di Tigullio Expo, a Rapallo è stato assegnato il premio Bontà Madre Speranza. Quest'anno è stato scelto un giovane seminarista della diocesi, Stefano Bruzzone. Dopo aver impegnato alcuni anni della sua professione di medico in Perù con l'operazione Mato Grosso, è entrato in seminario e forse il prossimo anno diventerà sacerdote. L'intervista a Gabriella Bairo Puccetti, promotrice del premio Madre Speranza. Terza edizione del premio Bontà Madre Speranza. È stato scelto un quasi sacerdote, un ragazzo molto in gamba. Infatti, evidentemente Madre Speranza, che aveva offerto la vita per i sacerdoti, voleva proprio un sacerdote. Perché è arrivato all'ultimo momento, grazie a prete Rinaldo Rocca, al quale abbiamo chiesto di fornirci un nome di qualcuno di cui valesse la pena di parlare. Non una piccola azione qualsiasi, comune a tutti, penso, ma qualcosa di veramente speciale, di veramente straordinario. Ed ecco che cosa ci ha comunicato, infatti, lui. Segnalo Bruzzone Stefano, giovane che ha impegnato alcuni anni della sua professione di medico in Perù con operazione Mato Grosso e ha poi deciso di entrare in seminario. Forse il prossimo anno sarà prete. Ecco, non poteva essere più azzeccato di questo per noi, per Madre Speranza, visto che è in suo onore che lo facciamo. È la terza edizione. È la terza edizione. Come sai, Telepace si è occupata fin dalla prima di questo premio. La prima riguardava una signora che ha rischiato la sua vita per salvare quella di un giovane. La seconda, abbiamo premiato un altro di casa, Podestà, Vittorio Podestà, che in questo momento spera di vincere le Olimpiadi e noi ci preghiamo perché ciò avvenga. E questo Bruzzone è un personaggio altrettanto importante, un giovane che dona la sua vita, dona la sua opera, le sue qualità. Non può essere presente, ma il papà ci racconterà alcuni fatti molto importanti che sicuramente sarà interessante conoscere. Bene, ora apriamo una finestra sulla situazione internazionale. Lo facciamo aiutandoci con il sito internet di Radio Vaticana che ci presenta la difficile situazione che sta vivendo in queste ore l'Ucraina. Si combatte in Ucraina il nunzio difficile situazione umanitaria. Questo è il titolo dell'articolo che troviamo appunto sul sito internet di Radio Vaticana. Nonostante il cessate il fuoco raggiunto nel 2015 con gli accordi di Minsk, ci sono ancora combattimenti in Ucraina ed è difficile la situazione umanitaria, ci informa Radio Vaticana. Soprattutto per le fasce più vulnerabili della popolazione. Dall'inizio del conflitto sono circa 9.500 le vittime, mentre sono 800.000 le persone bisognose di assistenza nelle zone in cui si combatte nelle immediate vicinanze. Difficile anche l'accessibilità degli aiuti umanitari in queste zone. E da una situazione di conflitto ad un'altra gravissima situazione, quella della Siria. Siamo sempre sul sito internet di Radio Vaticana. Come sapete sono cruenti i bombardamenti ad Aleppo proprio in queste ore. Ma c'è un piccolo segno di speranza per la popolazione siriana. Un momento che si è vissuto quest'oggi a città del Vaticano. Papa Francesco ha pranzato con i rifugiati siriani. Momenti di gioia e commozione quelli che si sono avuti oggi a casa Santa Marta. Un momento familiare, di festa, ma anche di forte raccoglimento, ci dice Radio Vaticana. Così racconta il pranzo tra Francesco e i profughi chi lo ha vissuto a casa Santa Marta. 21 i siriani accolti dal Papa, un gruppo arrivato in Italia il 16 aprile scorso con l'aereo che riportava Francesco dalla visita all'isola greca di Lesbo. Gli altri giunti in Italia a metà giugno. Adulti e minore, 9 quest'ultimi. Tutti sono riusciti a parlare in italiano con Francesco, salvo alcuni casi in cui i traduttori per i loro genitori sono stati gli stessi bambini. Queste alcune delle notizie che troviamo sul sito internet di Radio Vaticana. Ora parliamo di economia, anche d'estate non si ferma al nostro consueto approfondimento economico del giovedì. Questa settimana spazio alle notifiche via posta elettronica certificata delle cartelle esattoriali e approfondimento sui titoli di Stato BTP. Sentiamo la nostra rubrica. Le persone fisiche possono ottenere la notifica telematica delle cartelle esattoriali via PEC inviando una richiesta a Equitalia Servizi di riscossione SPA, indicando l'indirizzo PEC e utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito. Se l'indirizzo non risulta valido o attivo, o se la casella è satura, la notifica viene eseguita mediante deposito presso gli uffici della locale Camera di Commercio, con avviso pubblicato sul sito della stessa e inviato al destinatario per raccomandata. Si ricorda che in mancanza di richieste di notifica via PEC le cartelle continuano ad essere notificate nei modi tradizionali, tramite gli ufficiali della riscossione, i messi comunali o per raccomandata. Le persone fisiche, titolari di partita IVA e le società possono ricevere la notifica delle cartelle esclusivamente via PEC. È quindi consigliabile leggere costantemente la posta pervenuta in questa casella per evitare spiacevoli sorprese. Ora spazio all'approfondimento. Nell'ultima asta dei BTP di questi giorni, il rendimento del decennale italiano è stato pari all'1,12%. I BTP sono titoli di Stato a tasso fisso, perché pagano una cedola, cioè gli interessi, che resta fissa per tutta la durata del titolo. Visto che i BTP sono quotati e che ogni giorno variano di prezzo, il rendimento cambia, insieme alla quotazione. A parità di cedola, infatti, chi compra ad un prezzo più basso, incassa alla fine della vita del titolo un rendimento più elevato. Questo perché alla scadenza i BTP vengono rimborsati tutti a 100. Pertanto, quando il prezzo scende, il rendimento sale e viceversa. La fonte è del sole 24 ore del 10 agosto 2016. Ora prosegue il nostro viaggio nei campi estivi organizzati dalle parrocchie della nostra diocesi. Questa sera, nella nostra rubrica Estate Giovani, saranno protagonisti i bambini di terza, quarta e quinta elementare della parrocchia di San Giacomo di Rupinaro a Montemoggio. Un'anticipazione. Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Estate Giovani per il campo parrocchiale della parrocchia di San Giacomo di Rupinaro, il campo delle elementari. Abbiamo preso una frase del Vangelo di Giovanni che vi ho chiamato amici e con i ragazzi stiamo leggendo parte di questo capitolo sul tema dell'amicizia con Gesù come sorgenti di una vera amicizia tra di loro e come strada attraverso la quale accogliere i doni che il Signore ci fa per diventare fruttuosi, fruttuosi di bene per gli altri. Come mai hai scelto di fare l'animatrice? Perché i miei vecchi animatori mi hanno lasciato un bellissimo ricordo dei campi e volevo far passare ai bambini più piccoli la stessa esperienza così bella e formativa. Visto che il tema di questo campo è vi ho chiamato amici mi piacerebbe che i ragazzi si creassero tra i ragazzi un forte legame di amicizia e sono venuto principalmente al campo per ricevere qualcosa da loro ma per dare anche qualcosa a loro. Bisogna sempre dare il frutto che l'amicizia non deve essere falsa ma neanche si diventa amici di uno per ricevere qualcosa in cambio. Ora la cronaca aveva tentato di forzare la porta d'ingresso di un appartamento i carabinieri lo hanno rintracciato e denunciato e quanto accaduto a Sestri Levante la persona ritenuta responsabile del tentato furto è un 21enne di Milano sono in corso indagini per cercare di rintracciare anche il complice. I carabinieri di Sestri Levante hanno arrestato in flagranza di reato per furto aggravato un 55enne con precedenti di polizia residente nell'abimare. L'uomo in un bar di via Fieschi ha manomesso la videosorveglianza interna per poi impossessarsi delle chiavi di un cambiamonete dal quale ha portato via 715 euro. I militari allertati dalla proprietaria hanno rintracciato e bloccato il 55enne in mattinata il processo con rito direttissimo. Sempre i militari di Sestri Levante hanno denunciato per invasione di edifici pubblici quattro stranieri di età compresa tra i 25 e i 28 anni tutti senza fissa dimora per aver dimorato illecitamente in un fabbricato da ristrutturare in via Tino Paggi dopo aver divelto le recinzioni. Ora parliamo di cultura. Note necessarie è il titolo del film che la regista Monica Fatato ha dedicato alla vita di Enrico Rava che è il prologo della rassegna a Jetson Air. Abbiamo intervistato Enrico Rava. Vediamo. Che impressione ha avuto da questo film che racconta un po' tanti episodi molto particolari della sua vita? Beh, chiaramente vedendolo mi sono fatto un sacco di flashback, di ricordi, come sempre. Tra l'altro sono contento perché mi sembra sia venuto bene, ci sono delle cose molto belle, ci sono cose che io non ricordavo più, eccetera. Mi sembra anche che si possa vedere anche se non si è proprio addetti ai lavori oppure se non si è parte di questa nicchia che segue il jazz, no? C'è un momento molto importante di quel primo disco che lei ascoltava a casa dei suoi e che ora custodisce suo fratello e che nel film suo fratello mette proprio con la testina. Sì, sì. Il disco è un disco di Big Spiderback che è stato un grandissimo degli anni venti. Quindi in piena, come si chiamava una volta, l'età del jazz, Scott Fitzgerald, tutto ciò, no? Ecco, lei ha raccontato anche di altri due musicisti che le hanno segnato un po' la vita. Mi riferisco ad Armstrong e a Miles Davis. Ah, Armstrong è il più rappresentativo musicista di jazz, secondo me. Infatti il grandissimo Miles Davis, che per me è il più grande musicista di jazz moderno, un giorno disse in un'intervista, tutto ciò che noi suoniamo era già suonato a Lewis Armstrong. Lei ha attraversato un po' 50 anni di musica jazz e in questi ultimi anni il panorama italiano, mi riferisco, produce sempre migliori musicisti e la sua perplessità era quella di dire ma cosa faranno questi ragazzi così bravi? Beh, difatti mi preoccupo per loro, non è facile per niente perché con tutti i tagli che ci sono stati, quindi hanno cancellato una quantità incredibile di eventi, per esempio, piccoli festival che prima comunque erano a una base di lavoro, non esistono più. Detto ciò, rimane il fatto che ci sia una quantità veramente enorme di giovani musicisti straordinari. Dunque dopo il prologo dedicato a Enrico Rava, domani sera l'inizio ufficiale di Jazz on Air alle 21.30 in piazza Fenicia Chiavari con Francesca Tandoi European Trio. Vediamo quali sono tutti gli altri appuntamenti nella nostra scheda. Venerdì 12 agosto ci sarà la prima delle quattro giornate di sbarazzo per un arapallo da mare in programma Forti Sconti nei negozi del Centro Storico. A San Salvatore dei Fieschi a Cogorno avrà luogo dalle 16 Medioevo nel Borgo con inizio della Sagra del Contato alle 19.00. Antichi mestieri, botteghe, danze, vita del 200. In serata sarà infine presentato il teatro storico del gruppo teatrale di Moneglia. Solidarietà in musica è il titolo della terza edizione della Lotteria Premi e del concerto promosso dal Radioclub Levante Onlus. La manifestazione avrà inizio alle 17.00 nell'Anfiteatro Binghi di Santa Margherita Ligure. Nell'ambito del festival Torriglia in Arte ritrovo in piazza Donnetta alle 17.00 per una passeggiata storico-naturalistica fino al sito archeologico guidata dal ricercatore Mauro Casale. Descrizioni di fiori, piante ed erbe officinali presenti sul territorio del Parco dell'Antola. Alle 18.00 incontro con l'autore Giuseppe Semboloni e presentazione del suo volume di improvviso riapparve il pallone rosso. L'iniziativa nell'ambito della rassegna Il Salotto di Amalia avrà inizio alle 18.00 nella Biblioteca Bertoni all'interno di Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure. Appuntamento con la rassegna Valdivara Cantica all'insegna della buona musica e del canto. L'iniziativa a cura della corale Valdivara si svolgerà alle 21.00 nell'Aia della Corte a Sesta Godano. All'interno del porticato Brignardello di Lavagna, grande serata di galà nell'ambito del festival internazionale itinerante di tango argentino. Milonga a ingresso gratuito dalle 21.00. Ultima replica per l'opera lirica Le Nozze di Figaro di Mozart curato dal Lirica Club Varese Ligure. Inizio dello spettacolo alle 21.00 in piazza Fieschi. Note in piazza a Lavagna, serata all'insegna della musica e in piazza della Libertà alle 21.00. Giro delle piazze con gli amici del coro Voci d'Alpe e le allegre fisarmoniche a Santo Stefano Daveto. L'inizio è previsto per le 21.00. Nell'ambito del festival paganiniano di carro si terrà il recita del pianista Nicola Parisi. Appuntamento alle 21.00 a Riccò del Golfo all'interno della chiesa di San Benedetto. Secondo concerto rapallese nell'ambito del 18.00 Festival Organistico Internazionale. L'esibizione musicale si terrà all'interno dell'Oratorio dei Bianchi alle 21.15. Questa volta in compagnia del duo spagnolo formato dal fagottista Fernando Sanchez Serrero e dall'organista Javier Artiga Spina. Prima serata del Friday Night 2016 nei bagni La Valletta Santa Margherita Ligure alle 21.30 per i cena accompagnato da note musicali lounge a seguire musica disco sulla spiaggia. Corde oblique e musica d'autore è la rassegna musicale che questa volta vede protagonisti gli New Quartet e Federico Sirianni appuntamento alle 21.30 sul lungomare Vittorio Veneto a Rapallo. Festa di San Lorenzo nella frazione di Villacella a Rezzoaglio. Domenica 14 agosto alle 11.30 nella chiesa millenaria sarà celebrata la Santa Messa. A seguire si potrà pranzare sul Sagrato. I festeggiamenti per San Lorenzo quest'anno saranno l'occasione per celebrare diversi eventi. L'uscita del libro La Cella, storia, tradizioni e volti del paese avetano raccontati da Carla Cella. Il volume sarà presentato dal presidente del Consiglio regionale Francesco Bruzzone. Le offerte raccolte contribuiranno alla spesa per il restauro del tetto della chiesa. Saranno inoltre festeggiati gli ottantenni originari del paese e saranno disponibili alcuni DVD del programma Paese Mio dedicato a Villacella in cui si racconta il passato e il presente della piccola comunità. Terminiamo così questa edizione di Tegulli Oggi. Vi ricordo che la nostra informazione ritorna puntuale domani mattina alle 7.30 con il Buongiorno di Telepace, ma continua sul nostro sito internet, teleradiopace.com. Grazie per averci seguito e buona serata a tutti. Grazie. 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 Grazie.